quando uno soffre di ansia di amore sa in quell'attimo che il maestro si sta innamorando che il maestro si sta innamorando che il maestro si sta innamorando ma non pensate che se mi innamoro, lascio il canale, il canale va sempre avanti. Io direttamente il canale l'ho abbandonato voglio fare il papino alla mia bambina la 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 mia bambina Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.